La Regione Toscana ha dato il via libera alla riapertura dei centri termali, dei circoli sociali, ricreativi e culturali e delle attività di stagio e di formazione. Il Presidente Enrico Rossi ha firmato la relativa ordinanza che contiene anche le linee guida per la ripartenza di questa attività nel rispetto delle misure di sicurezza della fase 2 dell'emergenza Covid-19. Lo stesso provvedimento contiene ulteriori disposizioni più dettagliate anche per i campeggi, per i parchi a tema, le aree giochi per bambini, palestre e piscine e stabilimenti balneari. E a questo proposito c'è la novità che riguarda gli assistenti bagnanti. Siccome i bagnini, chi fa assistenza, chi porta in qualche modo anche assistenza a chi si trova difficoltà, sono sostanzialmente preparati ai soccorritori di primo livello, inseriamo in questa ordinanza la loro presenza nella lista, diciamo, di chi ha diritto, se lo vuole, a poter accedere al test sierologico e quindi lo potrà svolgere anche a costi della Regione. Protocogli e misure da adottare sono il risultato di un doppio confronto condotto dall'assessore regionale Bugli, da una parte con le associazioni di categorie e gli operatori e dall'altra con la conferenza delle Regioni.